Grazie, buonasera a tutti, ringrazio Letizia Moratti e le straordinarie persone di questa comunità e voi tutti per aver resistito dalle otto e mezza di questa mattina. Vi ringrazio perché la domanda di Lea Piersman era se abbiamo imparato qualcosa oggi. Io ho iniziato ieri sera con la cena alla vite ad imparare qualcosa, ho imparato tutt'oggi, non solo da questo palco, ma anche girando per le strade della comunità, incontrando le persone, assorbendo la straordinaria energia e positività che emanano e che è veramente contagioso e sarebbe un regalo per tutto questo paese che ha poca fiducia nel futuro e che quindi potrebbero beneficiare di tanta energia. Allora parliamo di questo workshop e dei risultati sulle imprese familiari. Intanto perché Ernest Young EY si occupa di imprese familiari, ce ne occupiamo perché la maggior parte dei nostri 4.500 clienti che ci consentono di avere 4.000 dipendenti in Italia e fatturare poco più di 500 milioni sono aziende familiari, quindi sono il nostro patrimonio e per questo ce ne occupiamo. Per questo abbiamo deciso di sostenere una cattedra alla Bocconi con il professor Guido Corbetta insieme all'AIDAF, all'associazione delle imprese familiari e con l'AIDAF abbiamo realizzato, tramite l'AIDAF e con l'AIDAF e con l'AIDAF e del professor Corbetta abbiamo realizzato questo workshop appunto per questo evento e di cui andiamo a condividere i risultati. Volevo prima di arrivare ai risultati condividere un po' con voi che cos'è il family business in giro per il mondo. Allora questi sono i risultati nel mondo e in Europa della dimensione della family business, delle imprese familiari. Come vedete la dimensione è enorme sia in termini di occupati che in termini di percentuale del PIL sia in Italia, dicevo, sia in Europa che nel mondo. Questa invece è rispetto alle 300 più grandi imprese qual è la percentuale delle imprese controllate da un'impresa appunto familiare, cioè da un azionariato di tipo familiare. Come vedete le percentuali sono molto alte e la più alta è quella italiana dove raggiunge il 40,7% delle imprese comprese fra le 300 appartengono a family business. Andiamo avanti e questo è un po' più controverso come risultato. Come vedete qui c'è la dimensione d'impresa su cui torniamo poi alla fine del risultato del workshop. Come vedete l'88,1% delle imprese italiane, scusate svedesi, l'80,7% di quelle italiane sono sotto 5 billion. Ci torniamo dopo perché la dimensione per le sfide che il family business ha nel futuro ovviamente è importante. Questa è la percentuale delle società quotate, cioè le società che si sono aperte al mercato, che ovviamente la prima impressione che si ha rispetto alle aziende familiari è che non siano aperte al mercato, questi dati invece smentiscono questa impressione e ci dicono che invece il mercato del family business è aperto al mercato, molte sono le quotate, molte sono anche nel processo di quotazione. Allora quali sono alcuni aspetti caratteristici prima di arrivare ai risultati del workshop? La prima è che durante i cinque anni della crisi, o meglio durante più di cinque anni, ma diciamo nel periodo preso in considerazione, le imprese familiari sono quelle che meglio hanno risposto alla crisi in termini di occupazione, sono quelli quindi che hanno continuato ad occupare, quindi è cresciuto il numero dei impiegati, è cresciuto anche il fatturato in questi anni e come vedete anche la redditività non ne ha risentito. Questo è il risultato della capacità che le aziende familiari hanno, prima di non spaventarsi rispetto a crisi o a fatti negativi, la seconda è di proteggere comunque il proprio patrimonio, avere una vista più di medio termine e quindi proteggere anche gli occupati. Questo è quello che è accaduto negli anni dal 2007 al 2012. L'altra è anche il numero delle imprese, qui ne abbiamo messe solo alcune, che sono da più di cento anni che operano, di imprese sempre familiari, quindi qui abbiamo messo alcuni marchi, in realtà ne sono almeno 40 nel territorio nazionale le imprese che sono sul mercato da più di cento anni. È vero che molte imprese hanno venduto, ma è vero anche che ce ne sono molte che resistono sul mercato e competono sul mercato. Allora quali sono le regole, come dire, di successo del family business in giro per il mondo? Questo è un osservatorio di UI che lo abbiamo rifatto in Italia insieme a Bocconi e poi arriviamo sul lato del workshop e vedete questi sono i fattori di successo del family business. La prima è ovviamente l'iniezione di capitale avendo come visione il medio e il lungo termine, quindi il capitale paziente che sa aspettare i risultati anche nel medio termine. Gli altri elementi che vedete sono ovviamente la capacità che deve avere un'impresa familiare di distinguere l'azionariato dal management e questo succede con fatica in molte aziende. Ovviamente si inizia in cui l'imprenditore che ha fondato un'impresa e quindi il manager Gildo Zegna di cui parlava prima, Anna Zegna, è evidente che era il fondatore, l'azionista e ovviamente era anche il manager di quell'azienda. Quando si arriva alle seconde, alle terze generazioni non necessariamente la proprietà deve coincidere con il management e quindi bisogna avere la capacità ovviamente di scendere i ruoli e quindi le regole che bisogna stabilire, quindi la governance che ritornavate dopo, di come si accede in un'azienda, quali sono i requisiti e i criteri di selezione di un azionista rispetto al manager che è un ruolo completamente differente. Gli altri elementi che vedete, li riassumo velocemente, sono quelli di essere aperti ad avere persone indipendenti nei propri consigli di amministrazione, di avere dei comitati sempre con persone esterne che possono aiutare su ogni scelta strategica di investimento o di disinvestimento di avere anche un punto di vista possibilmente neutrale rispetto a chi gestisce l'azienda o rispetto all'azionariato e quindi un punto di vista diverso. Allora, come vedete, le altre condizioni le vedete in questa slide. Mi piaceva sottolinearne una, l'ultima, è che nelle aziende familiari un valore che si porta è la condivisione appunto dei valori all'interno della stessa. Questo è un asset di cui l'azienda familiare deve essere capace di sviluppare e di proteggere perché sono quei valori che fondano tutte le cose di cui ci siamo detti da questa mattina alle otto e mezza, che fondano la capacità di stare insieme, l'engagement delle persone, la motivazione, la capacità di viaggiare verso una direzione e questa capacità di valorizzare le risorse. Le risorse si valorizzano e i piani strategici si realizzano se ci sono all'interno di un'impresa e una comunità dei valori condivisi, fondanti. Vale per questa comunità? Vale per un'azienda? Vale per tutte le collettività e le imprese. Bene, passiamo ai risultati del workshop e alle criticità quindi delle imprese familiari italiane. Qui vedete solo alcune delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo risultato e ne abbiamo messo solo alcune, ovviamente prese la maggior parte in questa regione. Allora quali sono i primi elementi? Allora i fattori tradizionali ovviamente sono, l'abbiamo già detto, visione di lungo termine. Un imprenditore di un'impresa familiare ha nel suo DNA la visione oltre alla propria generazione. È uno capace di guardare alle generazioni successive. Perché nel suo DNA? Perché è come se fosse un padre di famiglia all'interno di quell'impresa. Quei dipendenti sono anche figli suoi. Lui ha una visione naturale di lungo termine. La seconda è che ovviamente bisogna focalizzarsi sul core business. Questo in realtà è vero ma noi abbiamo anche esempi di quelli che hanno diversificato con successo. Potrei fare molti esempi nel paese Italia. È vero anche che il rischio di diversificazione ovviamente è alto e quindi anche molte aziende che hanno diversificato sono sparite. L'ultimo è il tema della sostenibilità e della social responsibility. Questo nelle imprese familiari è nel DNA. Non è un fatto che abbiamo scoperto negli ultimi anni. È il resto del mondo che ha scoperto che è delle imprese. Noi abbiamo ogni anno un evento che si chiama imprenditore dell'anno e quindi ogni anno eleggiamo il migliore imprenditore italiano. Ogni anno che un imprenditore premiato alla Borsa di Milano facciamo questo evento sale sul palco. La prima cosa che fa ringrazia i suoi dipendenti. Lui è lì perché i suoi dipendenti lo hanno ascoltato. Hanno creduto in lui. Gli hanno consentito di arrivare lì. Questo è nel DNA di queste persone. Allora arriviamo alle domande. La prima domanda era ma come ha impattato gli emerging market, questi mercati crescenti? E qui in realtà le risposte sono diverse. Però per le aziende che abbiamo preso in considerazione, cioè quelle che si sono internazionalizzate, la risposta è come vedete sono sempre positive. Cioè hanno imparato, hanno avuto altri mercati disponibili e quindi per loro è stato positivo la crescita dei paesi emergenti. Questo è un fattore importante che ci riporta a che cosa? Alla dimensione di impresa. Perché uno dei problemi del paese d'Italia è che la dimensione dell'impresa italiana è troppo piccola per competere oggi nei mercati globali, in molti casi ovviamente, e non è possibile competere in mercati senza avere una dimensione adeguata e una presenza a livello globale adeguata. E non è possibile neanche fare gli investimenti di cui si parlava prima, parlava prima il presidente Tarantola, per esempio in questa rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale sta rivoluzionando tutte le imprese, tutti i settori. È partito ovviamente con il settore di media, delle telco, ma piano piano sta ovviamente toccando tutti i settori. E riguarda sia la parte degli acquisti, della produzione, delle vendite, nonché della gestione delle infrastrutture, del marketing, della comunicazione. Tutte le aree sono e ovviamente sono impattate. Ovviamente c'è bisogno di investire per riuscire a vincere queste sfide e vincere sul mercato. E qui il tema della dimensione è fondamentale per competere. Allora, gli altri elementi che sono emersi ovviamente sono uno rispetto alle fonti di finanziamento. Chiaramente nelle imprese familiari la prima è l'autofinanziamento, laddove questo è possibile. La seconda ovviamente, come vedete dalla slide, ci sono i finanziamenti della famiglia, quindi degli azionisti della famiglia e l'altro ovviamente sono le banche. Le altre domande a cui abbiamo cercato di risposta è qual è l'aspettativa di un ritorno rispetto a un investimento. Ecco, qui voi se andate fuori dalle imprese familiari, oggi i termini sono due anni, cinque anni, tre anni, ma cinque anni non ci arriva nessuno. Sono sempre da uno a tre anni. Ecco, qui cominciate a vedere il dieci anni fissato lì. C'è qualcuno che investe oggi e pensa di avere un ritorno su quell'investimento in dieci anni. Quindi si è proiettato al 2025. Ecco, questo è più comune nelle imprese familiari che nelle imprese non familiari. L'altro elemento, e di nuovo ritorniamo alla criticità della dimensione, sono quali sono i drivers per creare valore oggi. Questo workshop l'abbiamo chiuso qualche giorno fa, appunto ieri la conclusione, ma abbiamo lavorato negli ultimi due mesi. Allora vedete qui tre cose fondamentali di cui si è molto parlato da questa mattina. Uno, il tema delle human resources, dei talenti, dell'investimento nelle risorse, nei talenti e quindi nelle proprie persone. Il secondo è il tema della innovazione. Anche di questo si è parlato moltissimo e quindi non mi dilungo. Il terzo, lo dicevo prima, è il tema della internazionalizzazione. Allora, per realizzare questi c'è bisogno di investimenti, cioè per raggiungere e per creare valore tramite questi drivers. Ma per fare questo c'è bisogno anche di una dimensione critica, di una dimensione critica per poter competere. Ecco, questo si è molto detto. Io mi ricordo che ero ancora studente quando Alberto Quadrocurcio l'aveva scritto in un libro che il tema dell'impresa italiana era un fattore critico, sarebbe stata la dimensione. Oggi però è il momento del non ritorno. O creiamo degli strumenti, dei meccanismi e cambiamo anche la cultura degli imprenditori. Quindi siamo capaci di mettere insieme e di convergere in aziende a dimensioni più grandi o la competizione sarà molto più difficile nei mercati globali. Allora, vado a chiudere con questa sintesi. La sintesi è, perché ci siamo posti il problema ovviamente della economia positiva, che è il tema che stiamo dibattendo oggi, che è quello di cui stiamo parlando da questa mattina. Allora, una prima risposta arriva da Anna Zegna, che è qui di fronte a me, perché un altro patrimonio dal punto di vista sociale che noi dovremmo utilizzare meglio sono le fondazioni d'impresa. Perché le fondazioni d'impresa possono essere utili? Perché le fondazioni d'impresa hanno un contatto con le aziende e con il management delle aziende e potrebbero contribuire alla crescita del terzo settore, contribuendo con la propria capacità organizzativa, gestionale, perché questo tipo di aziende in cui siamo oggi qui è frutto di tante cose, ma anche di capacità organizzativa, gestionale, divisione. Qui c'è un'impresa qui dentro e ci sono delle competenze ovviamente. Allora questo non è così diffuso in tutti i settori. Allora questo è sicuramente un beneficio che può arrivare. L'altro elemento, quando abbiamo posto la domanda come il family business può contribuire all'economia positiva, è quello che ho detto prima, cioè la capacità di leggere il sociale e di tenere insieme il sociale, perché è quello che consente a un'azienda di crescere, a un'azienda quindi di restituire alla comunità quello che ottiene. Questa sensibilità è del family business e ci piaceva portarlo qui alla vostra attenzione e condividerlo con voi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.